Ciao, mi chiamo Sofia e sono arrivata in Australia, Melbourne, intorno a Natale, anzi precisamente a Natale e in questo momento da circa un mese e mezzo ormai vivo in un ostello, un ostello molto grande che sembra più una residenza se vogliamo e intorno appunto a quando sappiamo che in Italia ha iniziato tutta la questione del virus, io avevo i miei genitori in Italia o i miei genitori in Italia che iniziavano a parlarne e qui ancora non c'era nessun tipo di voce nemmeno in giro, ecco, vediamola così. Che dire, in questo momento mi trovo come i cosiddetti, come tutti i cosiddetti backpackers, cioè come i ragazzi che sono qua come me con la working holiday visa che è la visa che ti permette di stare in Australia un anno per lavorare. C'è stato un grosso panico iniziale perché quando le attività sono iniziate a chiudere, a crollare per noi è stata un po' una grossa difficoltà perché davano, insomma, davano precedenza appunto e danno tutt'oggi precedenza al cittadino australiano piuttosto che a chi è qui per un tempo determinato. Tu sei a Melbourne, vero? Ho capito bene. Sì. E si sentono delle restrizioni? Sono rigide? Sono pesanti? Avete libera circolazione? Quali sono i limiti della situazione tua personale ma della città? Allora, i limiti ci sono stati fin da subito in maniera non severa. Prima c'era il cosiddetto shutdown, cioè appunto un invitare allo stare a casa e un invitare appunto a prendere le misure e le precauzioni. Però ricordandoci sempre che qua è arrivato molto molto più tardi, appunto tutta una situazione di... proprio a livello di contagio è arrivato molto più tardi. Dopodiché c'è stato appunto un dire shutdown per cui state a casa e già lì ho notato che, che nonostante per me il mio punto di vista personale è relativo perché stando in un ostello comunque è stato molto difficile capire chi stesse effettivamente prendendo delle precauzioni sia personali quindi sia a livello individuale che a livello poi di responsabilità verso l'altro. Però devo dire che dopo due settimane di shutdown più o meno il governo ha poi appunto dichiarato come legge il lockdown nella quale stiamo ancora e che però a quanto pare a livello di... cioè sta funzionando perché comunque ci sono delle delle aspettative future che verso appunto a... alla fine di... verso la fine di aprile dovrebbe quasi appunto rilevarsi una situazione di... insomma di fine rispetto a tutto... di fine di lockdown e... se posso... l'Australia ha attraversato un periodo complicato anche difficile con questi straordinari incendi di qualche mese fa. Adesso c'è il lockdown in molte città in molte... come reagisce la gente, la gente normale? che sensazione o che conoscenza hai della reazione delle persone? Eh... questa è la domanda... una domanda curiosa perché io personalmente ho notato soprattutto... cioè l'impressione che mi ha creato... molta impressione è stata all'inizio con appunto con tutta la questione dei bushfire dove non... io non ho personalmente riscontrato una grande... un grande subbuglio... fra... fra le strade... cioè la vita continuava come se niente fosse... e io personalmente ho avuto anche più un aspetto di... di trauma rispetto alla... alla situazione dei bushfire quindi appunto intorno a Natale quando sono arrivata... più che... ancora più... più di... più... più... più di questa situazione del coronavirus... cioè ho trovato molto molto sconcertante la reazione delle persone che nonostante comunque avessi... ci fosse possibilità di parlarne... in realtà eh... la vita con i bushfire eh... continuava eh... senza troppe ehm... differenze eh... ma anche soprattutto da un punto di vista lavorativo... io ricordo che stavo che andavo a lavorare... l'aria era pesantissima e non... non... non si aveva... eh... non si aveva troppa... non... non... non so come dire... ho visto... ho notato che non si... non si fosse formato... non si fosse fermato niente... e eh... mentre adesso rispetto appunto a... a quello che con i bushfire... non... la città non... non si era fermata... le... le... i lavori continuavano... tutto continuava... però... le situazioni appunto di... dell'area erano dei livelli... indivibili... e comunque c'erano delle regole eh... fissate... del rimanere a casa... anche col bushfire... cioè noi avevamo comunque delle regole da seguire... che erano delle regole a livello medico... in cui saremmo dovuti rimanere eh... chiusi in casa... con l'aria condizionata... chiuso tutto... ma nessuno... nessuno seguiva queste regole... fondamentalmente perché la maggior parte comunque magari non ne ha la possibilità... o a quantomeno io... come... la vita che faccio... cioè... la vita che stavo facendo... non mi permetteva di avere una casa con l'aria condizionata... per non uscire poi di casa... o tantomeno di non uscire di casa per andare a lavorare... e poi tutto continuava... per cui comunque c'era... c'erano grandi contraddizioni... rispetto a... al dire restate a casa e al poi il sto andando a lavorare... ma come tutt'oggi... credo che sia un punto... che in Australia comunque... è arrivato un po' un po' più tardi... la chiusura di tutti i posti... cioè ancora ad oggi non sono... non sono... non sono... non sono tutti chiusi... ma anche alcuni ristoranti sono ancora aperti... o come tutta la situazione dei delivery... piuttosto che... tanti posti di lavoro sono ancora aperti... e fino a una settimana fa... il rimanere a casa c'era... quindi comunque... si rimaneva a casa... però se qualcuno andava a lavorare... doveva andare a lavorare... Questa situazione... almeno in tutto il mondo... ma immagino sia così anche a Melbourne e in Australia... si ripercuote soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione... più fragili... la disoccupazione che evidentemente sta crescendo... gli homeless... e... in un'altra testimonianza... ci hanno detto anche che... gli aborigeni sono... eh... tra i più... eh... colpiti da questa... eh... questione del coronavirus... eh... hai... qualche notizia... qualche... sensazione... a proposito di questo... o il fatto che sei in lockdown... ti impedisce di avere... eh... queste... conoscenze... ma... purtroppo sulla questione della... dell'aborigeno... comunque della fascia... delle fasce appunto minoritarie... eh... più deboli... eh... non... e in particolare sul... sul... sulla... sulla questione dell'aborigeno... non... non ho grande... conoscenza... devo dire... nonostante sia molto interessante in generale... la questione dell'aborigeno qua... eh... ci siano proprio... discorsi politico-sociali... per non parlare anche del discorso artistico... come siano poi tutti incentrati sul... su un'origine appunto... una... una... un... un... appunto un... un... aver rubato la terra... no... all'origine... e all'aborigine... quindi è come ridare un po' una... eh... una cultura... che sembra quasi effettivamente... che non... non sia mai esistita... o che comunque... cioè... c'è... c'è molto questo discorso... alla... della... alla quale però non ho... non ho... non ho... non ho... non ho grande conoscenza... soprattutto ad oggi... io vivo molto una situazione che... in primis... eh... di... eh... fascia debole... cioè io sono una fascia debole... se non forse... una delle più deboli... nel senso che comunque... il discorso del backpackers... e quindi appunto... di chi viene con una... ehm... ehm... con un visto... ehm... provvisorio... ehm... ehm... è comunque... ehm... non... non è comunque protetto... minimamente... quindi comunque per noi... ehm... avere... tornando al discorso dell'ostello... per noi avere... un... un posto come l'ostello... che comunque non è... non è comunque un posto cheap... ehm... ehm... se dovesse chiudere... sarebbe... per noi comunque un grande problema... perché... ehm... non è facile per il backpackers... e quindi per chi comunque... ehm... anche attraverso... le... ehm... belle parole che Morrison... ci ha... diciamo... ehm... insomma... ehm... ci ha un po' etichettati... anche come quelli che... ehm... ovviamente... avendo più mobilità... o comunque... stando più in ambienti di... ehm... ostelli... piuttosto che di share house... ehm... e quindi avere più... avendo più contatti con... ehm... ehm... con gruppi di persone... ehm... siamo anche quelli meno voluti... no? nel... nel... più... 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 ehm... più esposti... cioè più esposti nel... ehm... nella situazione... del... della... ehm... faccio un'ultima domanda più generale... ehm... incendi... e quindi... un disastro ambientale... come? ci sono stati... in Australia gli incendi... quindi un disastro ambientale... abbastanza significativo... il virus... che sta condizionando la vita... più o meno in tutto il mondo... e quindi anche in Australia... il riscaldamento globale... Greta Talberg eccetera... che sembra segnare questa epoca... eh... te personalmente... o comunque c'è... un... movimento... che sta cominciando... oppure sta andando avanti... prendendo coscienza... di queste difficoltà... e dell'idea di... avere delle prospettive diverse... ehm... meno... drammati... di quelle che abbiamo in questo momento... o... pensi che la gente... si stia... adattando a tutto? eh... questa è la domanda... del mille dollari... ma... io credo che... che l'uomo di per sé... sappia... purtroppo... adattarsi fin troppo... e... alle situazioni... e... io... eh... non... cioè... credo che... ehm... banalmente la speranza è l'ultima morire... e con tutto quello che hai detto... e con tutto quello che... credo per tutti... è... è... è alla coscienza di tutti... cioè... è alla coscienza di tutti... il cambiamento climatico... è alla coscienza di tutti... eh... eh... io credo... quello che... eh... sta succedendo nel mondo... e quello che continuerà a succedere... se... non... ci fermiamo... come... nella pratica... siamo obbligati a fare ad oggi... e quindi... spero tanto... che ci sia un... un segno... indelebile... cioè... se vogliamo... che questo... che questa situazione... stia effettivamente creando un... 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 un tempo... che per la prima volta... siamo... siamo... obbligati... a vivere... tutti... se vogliamo... in maniera più simile anche... perché siamo obbligati a... a fare più o meno... le stesse cose... eh... a stare a casa... a non... a non essere più abituati... a uscire... per andare a lavorare... e quindi... a vivere un tempo che... si percepisce come... come quanto... relativo... poi alla fine sia... e... e... come... sia un tempo che possiamo... possiamo sfruttare... in... in modo... tale... da potersi confrontare con... oltre che con se stessi... prima di tutto con se stessi... e soprattutto con... eh... sul... 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 come viviamo... anche questa stessa situazione... io... mh... io non lo so... cioè... non so... non so se... saremo in grado di... mh... non so se saremo in grado di creare... soprattutto noi... in quanto generazione... giovane... e... mh... ho potuto creare... un forte movimento... o... una forte corrente... di... di pensiero... cioè... per me manca... una corrente di pensiero... anche che porti... in una direzione... di cambiamento... vero... e quindi... mh... non c'è una risposta... se non... provare a ipotizzare... con... con... tutti grande speranza... rispetto a... al... 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 beh... diciamo che però... porsi la domanda... è già... un inizio... molto... lontano... però... è già qualcosa... esatto... però... bisognerebbe capire se... bisognerebbe capire se... questa domanda... ce la si pone come... come... quasi un compito... che bisognerebbe fare a tutti... perché... io... credo che... si tende a... a domandarsi un po' poco... in generale... e a evitare... i quesiti scomodi...